io l'altra volta penso ho invitato una ragazza e mi fa eh ma c'è sta quello la non mi ricordo che bestemmie che si è fatta io facevo finta di niente no dicevo ma chi è? dicevo ma chi era? no no io faccio chi è? eh non mi ricordo a spemuto a andare a cercare cioè faccio me il masseo lei fa sì 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 è lui che che è bestemmie e faccio beh guarda cara comunque ma a parte bestemmie ho detto masseo è pure bravo entra te cioè te fa ride no e io te voglio chiedere una cosa quanto te so serviti a te i freebooter su questa piattaforma perché poi il masseo si trova ovunque cioè io sono andato su tiktok per famoso coccodrillo ho sempre detestato sta roba nonostante e io capisco e posso capirlo che sia una pubblicità gratis completamente gratis sì il problema dei freebooter che tante volte fanno vedere solo quella mia parte in cui sono un satanasso sul serio bestemmio ma su fifa è normale è normale ma no non su fifa in generale ma prendono anche clip di altre stream altri giochi perché quando videogioco così io non so perdere sono scarso e non riesco a metabolizzare le due cose quindi vado in contrasto e mi incazzo ecco il problema di sti freebooter appunto è che danno a mio avviso un'idea sbagliata di quello che sono ok va bene sono bestemmie va bene che grido va bene che ho avuto il successo tanto successo grazie a queste tre cose però se passi a vederti just chatting a vederti altre cose riesci no a quanta gente mi scrive ancora oggi a mi sono ricreduto perché io vedevo solo sti montaggi in cui eri urlante sbavoso smanioso rabbioso e invece sono venuto qua ho visto ho approfondito no il canale eccetera eccetera ecco su quell'aspetto il freebooter mi è sempre dato sulle palle per questo motivo perché fanno vedere solo una parte tua e magari fanno vedere quello che fa views ma questo cosa non succede solo con me decontestualizzano tantissime altre clip creano il dramma di sing laddove non ce n'è da dove non ce n'è quindi se non mi sono mai piaciuti pubblicità per carità però infatti io lo dico e l'ho sempre detto è raro che lasci passare un freebooter io io li mando gli strike su youtube li mando su youtube li mando su tiktok è pieno per esempio su tiktok è difficilissima la situazione ho i contatti di tiktok italia ma lì è un po più difficile perché non c'è il concetto di strike c'è però devi fare un paio di cose non ho ben capito come funziona sì perché su tiktok ha la cosa del coccodrillo e detesa i è proprio esplosa quelle quelle la sono vabbè sono meme che sono esplose anche con parecchi anni di ritardo in realtà perché il coccodrillo ne ha tre di anni io per esempio ho visto quest'anno calcola qua ragazza mia la senti io rideva rideva che cazzo rideva questo coccodrillo io stavo giocando a pokemon è capito di pokemon pensate sì 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 che poi il pokemon alla fine è un gioco tranquillo quindi è un gioco molto chill e però vabbè c'era il coccodrillo che era un crucodile appunto che no allora siccome ha un'abilità che si chiama arroganza ogni qualvolta mette k o un pokemon gli aumenta l'attacco sì e quindi aumentata 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 diventa invincibile no e è una macchina da guerra tanto da là sì sì però qua clip dedicato a verità ma se l'ho vista tipo 200 volte ho troppo ride non lo so perché fa piacere comunque sì 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 quello sì sì ho una carica virale su alcune stronzate abbastanza importante quello sì però la cosa tua è che magari vorresti far vedere un'altra faccia del masseo insomma lo sto facendo vedere negli ultimi tempi più che altro sì 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 perché comunque io la maggior parte le persone che ho sentito che comunque associano masseo abbestemmia e basta c'è proprio basta però magari c'è qualcosa altro più no ci fai l'abitudine dopo un po ma sì ma sì ma io una cosa e poi dici vabbè dai sti cazzi ormai così basta ma no vabbè ma che cazzo te frega poi l'importante è la gente che te segui quello sì stanno dando grande feedback ultimamente appunto perché sto un attimo no portando queste live un po più le chiamano le live umane le hanno dettate queste questa denominazione no live umane e in cui parlo chiacchiero di argomenti un po anche pesanti alle volte quali salute mentale queste robe qua e l'apprezzano molto